A Telcozza siamo alla vigilia di un match comunque importante per l'Igia Virtus dopo una sosta forzata per il maltempo. Quali sono state le conseguenze di questo fatto di non aver giocato domenica? Secondo voi è stato un bene o un male? Si pensa sia stata una cosa positiva ma per noi non è stato così perché affrontare la partita domenica sarebbe stata anche per noi dare continuità al lavoro che abbiamo fatto in settimana e dopo la sconfietta di Cava rimetterci subito in mostra e facendo capire alle altre squadre che noi siamo presenti e che vogliamo essere presenti per tutto il campionato. Un avversario ostico nonostante la classifica che non lo premia però il Sersale sicuramente bisogna tenerlo in giusta considerazione. L'ha detto il mister, l'hanno detto un po' tutti nell'affrontare una squadra e comunque non ha mai preso tanti imbarcati. Sicuramente loro in casa non hanno mai subito tanti gol, comunque hanno sempre perso di misura. Certo la classifica parla che noi dobbiamo andare là a vincere ma io penso che non sia così facile anche perché loro di certo si vogliono giocare quelle piccole possibilità che hanno per non retrocedere direttamente quindi ci metteranno sicuramente tutte le forze per non far sì che questa partita vada per la nostra strada. Sicuramente un momento delicato dopo la sconfitta di Cava come hai detto tu volevate subito recuperare, vincere immediatamente e tornare alla vittoria ma in ogni caso siete rimasti primi perché una serie di circostanze vi hanno consentito di rimanere in testa della classifica nonostante il turno di riposo. Ecco, come vedi i prossimi impegni guardando un attimo oltre a Sersale? Ma io penso che la partita di Cava sia stata per noi una partita che forse ci ha dato quello sprint in più perché abbiamo capito che dobbiamo davvero accelerare e possiamo essere una squadra che può scrivere una storia in pratica. Certo sarebbe stato diverso se arrivavano i tre punti a Cava però come si è visto dopo poi la Cava si ha fatto due pareggi consecutivi questo campionato è davvero difficile, tutte le squadre possono metterti in difficoltà quindi speriamo di adesso confermarci quello che abbiamo fatto durante il campionato e continuare così perché è davvero importante per noi. Per te è un momento, mi dicevano ecco, di un piccolo infortuno, domenica ci sarai a secondo Sersale? Purtroppo ieri ho avuto una piccola fitta alla schiena, mercoledì pomeriggio mi sono allenato, nemmeno oggi. Spero domani o sabato di recuperare perché voglio essere presente ad aiutare i miei compagni e la città a vivere questo sogno insieme. Virgilio Vitale è uno dei volti nuovi del Ligia Virtus, anzi tra gli ultimi acquisti del responsabile dell'area tecnica Salvatore Grasso le tue prime impressioni qui a Barcellona? Mi sono trovato subito benissimo, uno spogliatoio compatto, una società seria, uno staff tecnico molto preparato mi sono trovato subito come se fossi a casa. Com'è nata questa opportunità di venire al Ligia Virtus? Guarda, mi ha chiamato il responsabile Grasso, io appena mi ha telefonato non ho esitato neanche un secondo a venire e sono venuto subito qui. Hai cominciato questa prima parte di stagione a Lentini con la Leonzio che è una diretta rivale del Ligia Virtus in questo momento in classifica, l'anno scorso voi al Ligia Virtus vi siete giocati il campionato allora lo vinse Ligia Virtus, che serie D hai trovato quest'anno? Ma è una serie D molto competitiva, tutte le partite sono difficili, tutte le partite devono essere giocate al massimo con il massimo impegno perché tutti sono cambi ostici, è una serie D molto livellata direi. Il tuo pensiero sull'Ligia Virtus, una squadra che forse nessuno si aspettava in betta all'inizio della stagione ci si aspettava le corazzate tra cui anche la tua ex squadra la Leonzio che ha costruito un organico veramente importante e invece Ligia continua a guardare tutti dall'alto verso il basso. No, sinceramente non me l'aspettavo neanche io, però sotto c'è un duro lavoro del mister di questo gruppo che stiamo facendo delle grandissime cose e questo primato secondo me è sicuramente meritato. Comunque dietro Ligia Virtus non mollano in classifica, c'è la Cavese che forse era la grande favorita alla vigilia e anche la Leonzio che rende, sarà a corsa a quattro fino alla fine o secondo te potranno cambiare gli equilibri? Secondo me giocheremo tutti e quattro fino alla fine, dobbiamo essere bravi a non mollare nulla a cercare di fare più punti possibili e poi alla fine vedremo. E cosa ti aspetti da questa tua avventura con la Maglia Ligia Virtus? Due obiettivi anche se sei arrivato a stagione in corso? Sì, sicuramente, sotto che adesso c'è Giovanni che sta facendo un grande campionato, io farò di tutto per mettermi a disposizione del mister e quando mi chiamerà cercherò di farmi trovare sempre pronto. Come mai hai lasciato Lentini? Forse li avevano puntato sul portiere under? Sì, lì c'era più un discorso del fattore età con il discorso dell'under, comunque si è preferito a dicembre di dividere le strade. Ecco, adesso siete attesi da tre partite in una settimana, sarà un piccolo tour de force, non conoscevi il mister Raffaele se non di nome, per non averne sentito parlare, un grande lavoratore. Adesso sarà una settimana di grande impegno. Sì, sicuramente, avremo tre partite molto difficili, impegnative e dobbiamo cercare in tutti i modi di tirar fuori i più punti possibili perché questo qui è un momento importantissimo del campionato. Quando si decide adesso il campionato è una sorta di crocevia della stagione? Sì, sì, è un momento importante, fondamentale, delicato perché se riuscire a fare punti adesso e cercare di avere un distacco è una cosa importante per il proseguo del campionato. Grazie!